Convergenza assoluta e la convergenza semplice del tipo sommatoria, facciamo che ne so, da n uguale a 1 fino a più infinito di a con n. Allora, come è definita la convergenza assoluta? Quindi, convergenza assoluta è uguale, si dice che la serie converge assolutamente quando la serie dei moduli, quindi la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di modulo di a con n, è una serie convergente. E poi, punto 2, se si ha convergenza assoluta, quindi se la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di modulo di a con n è minore di più infinito, automaticamente si ha anche la convergenza semplice, quindi se si ha convergenza assoluta, automaticamente la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di a con n, senza il modulo, è strettamente più piccola di più infinito. Quindi, ricordatevi, diciamo, questi due fatti, iniziamo dalla prima serie, quindi 1, che cos'era la prima serie? Era la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di coseno di n alla seconda per il seno di 1 su 2 alla n. Quindi vogliamo studiare prima la convergenza assoluta e poi la convergenza semplice, perché qualora avessimo convergenza assoluta, automaticamente abbiamo la convergenza semplice. Allora, convergenza assoluta. Beh, allora, come è fatto a con n? A con n è uguale a coseno di n alla seconda per il seno di 1 su 2 alla n, quindi modulo di a con n è il modulo di questa quantità, ma il modulo di un prodotto è il prodotto dei moduli, quindi è uguale a coseno di n alla seconda per, diciamo, il modulo di coseno di n alla seconda per il modulo di seno di 1 su 2 alla n. Vogliamo dimostrare che la nostra serie converge assolutamente, quindi vogliamo dimostrare che la serie modulo di a con n è una serie che converge, e quindi proviamo a maggiorare la quantità modulo di a con n. Per esempio, cosa osserviamo? Che il coseno di un qualunque numero è sempre minore o uguale di 1 in modulo, quindi il modulo di coseno di n alla seconda è sempre minore o uguale di 1, mentre qui utilizziamo il fatto che per ogni x reale, questa qui è una disuguaglianza elementare, modulo di seno di x è sempre più piccolo di modulo di x, e quindi abbiamo che modulo di a con n è minore o uguale di 1 per modulo di 1 su 2 alla n, ma 1 su 2 alla n è una quantità sempre positiva e quindi è uguale a 1 su 2 alla n. Con questo abbiamo concluso, perché cosa abbiamo? abbiamo che la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di modulo di a con n è minore o uguale della serie quando al posto di a con n ci metto una quantità più grande, ma cosa è più grande di a con n? Qui abbiamo a con n minore o uguale di 1 su 2 alla n, quindi la serie 1 su 2 alla n. e questa qui è una serie convergente, perché? Perché questa è una serie convergente, perché è una serie geometrica, vi ricordo che la serie diciamo di x alla n per n che va da 0 fino a più infinito è convergente alla funzione 1 su una quantità 1 diviso 1 meno x per modulo di x minore di 1. nel nostro caso x è uguale a 1 mezzo, abbiamo 1 mezzo alla n, quindi è una quantità affinita, quindi la serie è assolutamente convergente, sì, convergenza assoluta, poc, e di conseguenza come conseguenza questo implica convergenza semplice, ok, ce l'abbiamo in automatico perché la serie è assolutamente convergente. vediamo la seconda serie, quindi serie numero 2, era la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di meno 1 alla n diviso log di n. proviamo a studiare la convergenza assoluta, quindi convergenza assoluta, quindi come è fatto a con n? a con n è meno 1 alla n fratto log di n, quindi come è fatto il modulo di a con n è il modulo di meno 1 alla n fratto log di n, ma il modulo di meno 1 alla n è chiaramente 1 e il log di n è una quantità sempre positiva per n maggiore o uguale di 1 e quindi è 1 fratto log di n. e quindi mi chiedo se la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di modulo di a con n che è uguale alla serie da n uguale a 1 fino a più infinito di 1 su log di n è una serie convergente. La risposta è chiaramente no, dovrebbe essere piuttosto intuitivo perché il logaritmo di n è una funzione che cresce troppo lentamente, quindi 1 sul logaritmo di n è un numero che va a 0 troppo lentamente, questa serie è una serie divergente, infatti come si può giustificare questa uguaglianza? Beh, ad esempio si ha che il logaritmo di n è sempre minore o uguale di n, questa qui è una disuguaglianza vera e anche ovvia e quindi da questo segue che 1 su log di n è maggiore o uguale di 1 su n, ovvero mettendo le rispettive serie, la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di 1 su log di n è maggiore o uguale della serie dove al posto di log di n ci mettono è una quantità più piccola, ovvero 1 su n, ma questa qui è la serie armonica e sappiamo che la serie armonica è una serie divergente e quindi fa più infinito e quindi abbiamo appena scritto che la serie 1 sul logaritmo di n è maggiore o uguale di più infinito, essendo maggiore o uguale più infinito deve essere uguale a più infinito e quindi abbiamo giustificato l'uguaglianza. Quindi si ha convergenza assoluta o no, perché la serie del modulo di a con n è una serie divergente, quindi convergenza assoluta o no. Tuttavia non è detto che non si possa avere convergenza semplice, quindi studiamo la convergenza semplice. ci chiediamo se la serie da n uguale a 1 fino a più infinito di meno 1 alla n diviso log di n è una serie convergente. Beh, l'osservazione che bisogna fare è che, ossigno osservazione, logaritmo di n è una successione crescente, quindi è crescente. All'aumentare di n il logaritmo di n diventa più grande e quindi automaticamente 1 diviso logaritmo di n è decrescente. e quindi abbiamo, qual è la nostra osservazione? Che la nostra serie è una serie, c'è un meno 1 alla n, quindi è una serie a segni alterni il cui termine generale a con n è un termine decrescente e quindi una serie a segni alterni e decrescente per il criterio di Leibniz automaticamente è convergente. è convergente per il criterio di Leibniz, due punti, è assegni alterni e decrescente. e quindi effettivamente anche se non avevamo convergenza assoluta della serie, abbiamo convergenza semplice, quindi la serie converge. Infine, vediamo l'ultima serie che abbiamo, che è la serie che stavolta si parte da 2, da n uguale a 2 fino a più infinito di che cosa? Di meno 1 mezzo alla n per 1 su n fattoriale. Quindi, come al solito, partiamo con convergenza assoluta. Beh, a con n come è fatto? A con n è la quantità meno 1 mezzo alla n per 1 su n fattoriale. E riscriviamo meglio questo meno 1 mezzo alla n, questo meno 1 mezzo alla n sarebbe meno 1 per 1 mezzo il tutto elevato alla n e quindi è semplicemente meno 1 alla n per 1 mezzo alla n e quindi abbiamo che il nostro a con n è uguale a meno 1 alla n per 1 mezzo il tutto alla n per 1 su n fattoriale. Dunque, per studiare la convergenza assoluta, dobbiamo studiare il modulo di a con n, ma quando metto il modulo, il meno 1 alla n diventa un 1 e quindi quello che rimane è modulo di un mezzo alla n, ma che è una quantità sempre positiva, che moltiplica modulo di 1 su n fattoriale, ma 1 su n fattoriale è una quantità sempre positiva, quindi il modulo è superfluo e quello che rimane è proprio un mezzo alla n per 1 su n fattoriale. Vogliamo provare a maggiorare, vogliamo dimostrare che la serie convergenza assolutamente, quindi dobbiamo maggiorare il modulo di a con n, ma sicuramente, di cosa è minore uguale, è sicuramente siccome 1 su n fattoriale è una quantità più grande di 1, quindi 1 su n fattoriale è sicuramente minore uguale di 1 per ogni n e quindi questa quantità qui è minore uguale di 1, al posto di 1 su n fattoriale sostituisco 1 per un mezzo all'n, un mezzo all'n è 1 su 2 all'n e quindi di nuovo la serie, la scriviamo sotto, la serie da n uguale a 2 fino a più infinito di modulo di a con n è minore uguale della serie dove al posto di modulo di a con n sostituiscono una quantità più grande e quindi sostituiscono su 2 all'n. Di nuovo questa qui è la serie geometrica di ragione 1 mezzo che abbiamo visto prima nel punto 1 che è una serie convergente, quindi la nostra serie, la serie di modulo di a con n è una serie che è minore uguale di una quantità strettamente più piccola e più infinita, quindi è una serie convergente, che vuol dire che la serie dei moduli è convergente che abbiamo convergenza assoluta, ma se abbiamo convergenza assoluta automaticamente abbiamo ma anche la convergenza semplice.